Il Centro Estetica e Benessere ti aspetta in via Vittorio Veneto numero 186 a Cava dei Tirreni per proporti pacchetti e promozioni adatti ad ogni tua esigenza. La Cavese è sempre in corsa per vincere i play-off nel proprio girone. Giocherà a Rende domenica prossima, solo che a differenza della partita precedente con l'Igea Virtus, la compagine bianco-blu non potrà accontentarsi del pareggio per essere proclamata vincitrice. Dato che i calabresi hanno concluso al secondo posto rispetto alla terza posizione della squadra di Longo, quindi il Rende allenato da Trocini con un pareggio vincerebbe i play-off. Dunque Cavese è sempre in gara, ma più che guardare agli spareggi, il pubblico di Cava vorrebbe al più presto chiarezza sul futuro del club, sapere quale sarà la compagine societaria che nella prossima stagione amministrerà il titolo sportivo della squadra di Cava dei Tirreni. Allo stato attuale i ripescaggi in Liga Pro sarebbero ancora possibili, ma coinvolgerebbero pochissime realtà attualmente iscritte alla Serie D. Al momento la Cavese è piazzata al sesto posto tra tutte le finaliste di tutti i gironi per la media punti raggiunta in campionato e se dovesse avere la meglio anche a Rende, nella peggiore delle ipotesi, chiuderebbe al quinto posto. Oggi Metelliani ha il lavoro per il primo allenamento in vista della gara di domenica in Calabria. Mister Longo dovrà a gioco forza sostituire lo squalificato Loreto in difesa e al momento le indicazioni tratte anche nei supplementari della partita con Ligea, affrontati in 10 contro 11 dalla Cavese, lasciano intendere che sarà Tiberio Parenti, difensore over Mancino, a coprire la fascia sinistra. E il classe 98? In questo caso toccherebbe a Francesco Fellica giocare titolare nel settore d'attacco.